Hello ragazzi, ciao a tutti i nick e bentornati qua su Resident Evil 7 Ragazzi Allora, siamo qui ragazzi, di nuovo in questa stanza Penso di aver capito finalmente come si risolve l'enigma dei quadri Com'è che non ci ho pensato prima ragazzi? Bisogna orientare i quadri Come questi qua Quindi devo raddrizzare questo Ok Questo quadro con il rosso di sotto E l'ultimo quadro con la macchia in alto a sinistra Ok Ce l'abbiamo fatto Oh, finalmente gli agenti corrosivi Erano tutti qua, mannaggia, tutti là Allora, vediamo un po', ricapitoliamo Oh, vai a livello più basso e salva Ethan Io pensavo che era morto ragazzi, pensavo che era morto Api la porta con l'agente corrosivo e trovi il cavo elettrico nell'infermeria al terzo piano Ok, allora facciamo così Cominciamo con l'andare nell'infermeria Al terzo piano, naturalmente adesso magari c'è però il rischio che vengo attaccato Perché ho raccolto un agente corrosivo Quindi devo stare un po' attento perché succede sempre qualche cosa dopo che uno fa qualche cosa Magari salviamo la partita Mi pare sempre una bella idea Salvare spesso aiuta tanto Ok, partita salvata Andiamo al terzo piano Vediamo di aprire così ragazzi La... l'infermeria Qua dovrebbe aprirsi Penso che... Oh, negga, mi ha fatto cagassotto Ok, stavo a dire Penso che al terzo piano ci andiamo tranquillamente da qua Allora, l'infermeria Stavolta ho tutta l'agente corrosivo che può servirmi in questa vita Sentivo qualche strano rumore Oh, ok, finalmente Vi ricordate qua ragazzi? Qua è dove praticamente ha avuto problemi appunto mia Che sarei attualmente io Perché stiamo utilizzando la moglie di Ethan Allora, agente corrosivo finalmente Pichiamo le bombe, va Oh, sì, qua ragazzi ce lo ricordiamo e come Qui è dove praticamente mia è caduta di sotto Naturalmente teniamo gli occhi più che aperti Ma una cosa Pozione di cura ce ne ho una Ok, facciamone due dai Preferisco andare sul sicuro Hola, todo C'è qualcuno? Chissà perché dietro sta porta mi sa che c'è qualcosa Secondo me dietro quella porta salta fuori qualcosa poi Eeeh C'è nessuno in cassa? Ha chiamato casa Che stiamo cercando qua Un cavo elettrico Ma perché? Un cavo di rame dalla nave in giro, no? Per forza di qua lo devo pigliare sto cavo? Gli altri cavi fanno schifo Ok, ho già visto il quadro elettrico Ah, eccolo qua Agente corrosivo Quando poi ce l'hai Lo trovi Quando non ce l'hai Non lo trovi Questa è una bomba Ok, di qua non si esce Almeno non ora Vediamo di prendere quindi il cavo elettrico Ma so sicuro che succederà qualche cosa What the fuck? E' successo anche prima Porca Vai 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 Porca caccia E' ancora vivo I duvivuie What? What? Ok Questo non crepa Madonna Me ne è rimasta una di bomba Mamma mia Con calma Tanto ormai il peggio è passato Ok Ricapitoliamo Ripara l'ascensore Ok Aspetta posso uscire ora da questa porta Vediamo un po' se sta porta mo si apre Nada Ok Allora ragazzi torniamo indietro E' per forza che non si apre Perché sicuramente qualcosa Ma la devo beccare mo qua Madonna Mi ha fatto spaventare Ok Ok Calma 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 Stiamo calmi Stiamo calmi Prima di riparare l'ascensore Salva la partita Ok raga Ora Mi sento meglio Bene Partita salvata Possiamo riparare adesso L'ascensore Eccolo qua Cavo Cacchio Che c'è va qua Ah il fusibile Si Aspetta Sali O scendi Ma Ho sbagliato tasto Qual è il tasto F sali Oh No Dobbiamo andare sotto Dobbiamo andare sotto Ok Dobbiamo prendere il fusibile Teoricamente ce ne sta uno qui da qualche parte Fusibile Dove cacchio stai Uh Vediamo cosa c'è qua dietro Zaino Oh yeah Ora puoi trasportare più oggetti Ora che c'ho Oh ma ste solo Ste cose qua chimiche Come cacchio si chiama Quando mi serviva non lo trovavo Ora si trova come niente Oh Dai bombe 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 Ok Allora il fusibile Mi ricordo benissimo Dove va messo Ad essere sinceri Perché cacchio Non c'è manco qua Che fine ha fatto il dannato fusibile Dove Ah aspetta Il fusibile Ora mi ricordo L'ho messo in un'altra stanza Eccolo Eccolo E' là sotto C'è C'è Un unico fusibile In tutta la nave Un solo fusibile In tutta la nave Sali Mazzavo Per riparare L'ascensore Ok Cos'è sto coso Il cavo si è fuso Va bene Fusibile Mo' ci siamo Oh 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 Ah ma sono dentro L'ascensore Ok Pensavo di essere sopra L'ascensore Mi ero spaventato Mi pare che possiamo salvare la partita Prima di andare avanti Salviamo la partita Se ne abbiamo ragazzi La possibilità Perché Non mi va di rischiarmela Allora Di la verità Dove cacchio mi trovo Secondo piano Ok Qui si può salvare la partita Allora Vediamo un po' eh Perfetto Salvamo un'altra volta Meglio salvare spesso Allora dunque ragazzi Vediamo se c'è qualcosa di utile Qua nel baule Oh Non c'è un cacchio nel baule Com'è possibile Il baule è vuoto Si è buggato Non lo so Non ne ho la più pallida idea Torniamo ragazzi Nell'ascensore Allora Teoricamente L'ultima cosa da fare Vai a livello più basso Quindi S2 Ok ragazzi Allora Si parte alla ricerca Di Ethan Lui ti aspetta Grazie per l'info Per l'informazione E' qua sopra Speriamo bene Speriamo bene Speriamo bene Oh cacchio Sta scendendo Sta scendendo Sta scendendo Via 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 Aaaaaaah Attacca 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 Attacci tua crepa Ma porca Aaaaaaah Aaaaaah Man What the f... Scusi Dico io Eh Oh Mi sono rimas... Mi so io Rimasto Incastreto Capisci? Oh Questo è quello che è successo Io essere rimasto Incastrato Nel fuoco Nemico Meno male che Mi fa ripigliare da qua Pare un miracolo Allora Prima che sto tipo Prima che ci rimango Fregato un'altra volta Prego Si accomodi Prego Prego Venghi Venghi signore Venghi Scendi con calma Oh ma è morto O è vivo Ok Per il ciccione Ti sposti Per il ciccione C'ho qualcosa di meglio Oh Ero rimasto Proprio fregato Aspetta Ok Ok baby Dai eh Basta che non esplodono più Io so contento Ah quello era il fratello Il fratello cattivo Che a proposito Non l'abbiamo mai sconfitto Il fratello Quindi chissà Mi pare almeno No Non l'abbiamo sconfitto Tiriamo fuori le bombe Ragà Perché non credo Che le ho trovate per niente Anche perché Sto luogo Me lo ricordo Ci siamo già stati qua Oh un'altra bomba Buono Beh teoricamente Siamo nel posto giusto Orca vacca Prego signore Avanzi Avanzi E' morto Veramente Comodo Mi faccio sapere Oh cacchio Questo non è comodo Che schifo Oh la bomba Dove Pensavo di aver messo la bomba Cavolo Prego prego signore E' inciampeto Signore E' inciampeto Prego signore Avanzi Venghi Venghi signore Venghi Da posto Ah che schifo Signore Ha fatto indigestione Signore Signore Ha fatto indigestione Ok Meglio così Oh yeah Raga Oh yeah E' andato a farsi Benedire Da posto Compa Che si dice Ah Sta bene Oh mi è rimasta Solo una bomba Eh Gacchio se lamenta Oh 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 Oddio Che è sta roba Che cacchio Gli piglia Questa Che comincia A lamentarsi Ah Moneta Ma che ci faccio io Con ste monete Ancora servono Exit Prima di Pia All'uscita Voglio capire Ancora Fatta Ma ha fatto Spaventà Buono Ma ha fatto Cacassotto Ciao Che bello Un vedevol'ora T'ha posto Tu faccia una cosa per me Ma figurati Quando vuoi Ma quello è Ethan Ethan Eh T'ha posto Che si dice Oddio Oddio Ed Oddio Chi è sto tipo Lo so Lo so Non ti farò male Ok Non te ne avrei mai fatto Se avessi potuto Che vuoi dire Non sono un maniaco E non lo sono Nemmeno Margherito O il mio piccolo Lucas E nemmeno Zoe Quella Evelyn È colpa sua Lo sapevo Cosa diavolo è? Cosa vi ha fatto? Ci ha infettati Con il suo dono È così Che lo chiama L'ho trovata Tra i rottami Di una nave Nel bagliù Poi tutto è cambiato Ma va Ti infetta E controlla Le tue azioni No Non proprio Figliolo Lei Penetra dentro La tua mente Nella tua anima Non puoi opporti Lei diventa Una parte di te E non puoi Più resistere Al bisogno di Di fare cose brutte Ti trasformi In qualcosa di diverso Come con Mia Mi ha contattato Perché spinta da Evelyn Ascoltami Quella ragazzina Vuole una famiglia E lei è la chiave Capito? Tu devi trovarla E fermarla Eton Non Non fargli del male Te l'ho detto Non ho intenzione Di fargli del male Non osare Altrimenti Non sai mia mamma Ricordalo Ok 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 Vediamo Ciao Mia Come va Non c'è tempo Tieni Prendi questo Cos'è questo? Non riuscirò a resistere Ancora a lungo Mia No Me ne vado Cavolo No 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 Lo sapevo Che mi ha dato Banane Uccidilo 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 Doh cacchio vado Aaaaa Ok Me ne so pentito Non volevo Uccidilo 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 Agh combatti Uccidilo un bacio dai dai ciao mia ci vediamo da un'altra parte non penso che così facile ammazzarla non ti preoccuparci penso io accidenti ma perché mia perché ma non è colpa mia non è colpa sua è colpa di lei la bambina cattiva va buon ragazzi ci fermiamo per il momento qui spero che questo gameplay naturalmente vi sia piaciuto ormai penso che siamo nelle battute finali di questa avventura per insomma manca solo la bambina praticamente a parte lucas che non si sa che fine ha fatto quindi ragazzi spero che questo gameplay vi sia piaciuto come sempre commentate iscrivetevi lasciate un bel mi piace ci becchiamo presto ciao alla prossima raga ciao a tutti